Ed è paradossale come nel mondo della giustizia in genere si sia creata una sorta di democrazia perfetta, un'uguaglianza che spaventa perché in quel contesto sono ugualmente insoddisfatti le vittime dei reati, gli autori dei reati, le forze dell'ordine. E quindi se volessimo dirlo in maniera ironica ci troveremmo di fronte a una sorta di perfetto check and balance come dicono gli anglosassoni, ma non è così perché è un'uguaglianza che punta non ad aiutare la persona ma in qualche modo ad abbatterla, a piegarla. Anche per questo ho pensato che dovessi raccontare delle storie. Le storie sono, ripeto, dovrebbero essere di fantasia, ma al buon giornalista investigativo basterà poco raccogliendo qualche elemento, semmai, per scoprire che forse tanto fantasia non è, che raccontano di vicende che sono vicende soprattutto umane. Grazie. Grazie.